Le NAIADI continuano a restare chiuse ma i sindacati vanno avanti per garantire il futuro dell'impianto e anche dei lavoratori. Questa mattina incontro con il sindaco di Pescara. Copido, cosa dite, cosa volete far presente al primo cittadino? È proprio così, l'impianto delle NAIADI continua a essere chiuso nonostante ci siano decreti, come tutti sanno, che ne prevedevano già la riapertura, almeno per quello che erano gli spazi all'aperto. Noi oggi ci aspettiamo dall'incontro che stiamo per fare qui in Comune, che ci siano degli impegni certi rispetto a questa apertura, ormai si trascina da troppo tempo avanti. Vogliamo una data, vogliamo tornare a lavorare, vogliamo che quell'impianto torni in qualche modo a aprire i cancelli. I lavoratori sono stanchi, sono ormai allo strenuo e questa situazione è diventata veramente insostenibile. Non riusciamo più a comprendere le ragioni di questo rimpallo di responsabilità. Stiamo provando, insieme ai lavoratori, in mobilitazione a costringere tutti, perché questo è il nostro ruolo, a prendersi degli impegni che abbiano finalmente una data. Questa data quale potrebbe essere? Per noi praticamente ci rifacciamo al documento della Giunta Comunale del 15 di marzo, dove veniva indicata con l'espressione immediata riapertura. Non c'era chiaramente una data, ma quel Consiglio, lo ricordo bene, che impegnava Giunta e Sindaco già dal 15 di marzo la riapertura immediata, insomma immediata dopo due mesi e mezzo, mi sembra insomma uno simoro in qualche modo. Ci sono due strade al momento, quella dell'affidamento della gestione delle NAIA di Alcomune di Pescara, ma c'è anche il project financing, è così? Ecco, e questo è il dubbio che oggi deve essere sciolto, nel senso che entrambi si sono impegnati per risolvere il problema a breve, si sono impegnati il 15 di marzo a risolvere immediatamente la questione. Alla Regione subentra il Comune, bene, al Comune subentra la Regione, bene, a noi ci devono dire chi dei due rispetto agli impegni che formalmente entrambi hanno preso sarà quello che scioglierà l'arcano. A noi non interessa se si tratterà di un project piuttosto che di un nuovo appalto, piuttosto che di un affidamento, l'importante è che sia qualcosa di stabile, risolutivo e che dia garanzia a tutti i lavoratori, sia ai dipendenti che ai collaboratori. Per proposito, quanti sono? Sono 60 realtà, 60 famiglie, 38 dipendenti e il resto collaboratori.